Quanto tu ho amato e quanto tanto non lo sai E' un film non facile, non adatto a tutti, direi che è riservato ai cinesi di Doc La parte migliore direi, che è comunque quella quando Maria de Medeiros interpreta la prima regista O per esempio Elvira Notari, ecco si chiamava, e fanno vedere dei bellissimi spezzoni dei film degli anni 20 e 30 Mi ha reso una persona più libera La felicità di una persona sta nella soddisfazione di fare quello che ha deciso e scelto di fare E' un film interessante, tra l'altro la regista è molto giovane, questo non lo sapevo quando ho visto il film E' una cosa che fa ben sperare, molto belle sono le interviste a tutte le registe Non solo, tra l'altro c'è Anselma Dell'Olio, c'è Silvana Silvestri, dei critici cinematografici dentro E mi immagino come sia stato stanarle, perché non è facile fare il lavoro di andare a casa di persone Farle parlare, fare raccontare loro il loro lavoro Essere più numerose ci darebbe più forza nella lotta E' un'idea interessante, come interessante l'idea di rievocare Elvira Notari Che è stata la grande pioniera del cinema al femminile Ci sono delle interviste più banali, altre invece riuscite Un lavoro di cuscitura anche alquanto apprezzabile Perché non è troppo lamentoso, non è troppo piagnone Però mi sembra che proprio la veterana delle intervistate, la regista Cecilia Mangini Finisca per apporre, direi, il punto definitivo, il punto a capo Il cinema non è né maschile né femminile, è cinema e basta Non tutti capivano cosa stessi facendo Quello che è importante di questo film è averci risfatto, ricordare, riscoprire Elvira Notari E cosa si aspettano a fare una bella retrospettiva dei suoi film Perché è interessantissimo che agli albori del cinema Questa donna faceva dei film fantastici e melodrama meravigliosi Oltre a questo, quello che mi dispiace è che è ancora necessario Ghettizzare le donne dentro un film L'archibucis, a mia sorpresa, dice la cosa più importante Che le donne sono spesso conniventi con la loro discriminazione Diana Dell'Erba, regista di registe, dialogando su una lamenta Intanto perché avete scelto di fare questo mestiere, il mestiere di registe? Diana Scelto di fare questo mestiere per me è un po' tanto Nel senso che è stata una follia, non so se ripetibile Ho realizzato questo film documentario Scoprendo che su 100 registri italiani solamente 7 sono donne Perciò ho pensato che fosse il caso di andare a domandare Alle principali registri italiani il perché di questo disequilibrio Registe, dicevamo, dialogando su una lamenta Che film è un film documentario, un'inchiesta, cosa è dell'Emo? È un film documentario che vede una parte di interviste Dove ha intervistato Lina Bertmuller, Francesca Archibugi, Francesca Comencini E tante altre, tutte le maggiori registe italiane E una parte invece di fiction dove Maria De Medeiros interpreta la primissima regista italiana Cioè Elvira Notari Ma lei ha fatto il film che voleva fare? Sì Direi di sì Perché? Perché ho scagliato una lancia a favore del mondo femminile E che credo che oggi in questo campo come poi tutti i vari ruoli di potere Dove dove si riscontra il tale stesso disequilibrio Sia una bella cosa Sia una bella cosa Sia una bella cosa